Grazie Presidente. Inizio con un appello subito alla maggioranza del Governo che si dichiari immediatamente, come abbiamo già chiesto nella giornata di lunedì, lo stato di emergenza per la terribile calamità alluvionale che ha colpito il Piemonte. Ieri il Governatore Cirio è stato dal Ministro degli Interni Lamorgese ed ha comunicato una prima stima dei danni pari a un miliardo di euro tra tutti i danni che ci sono tra le opere pubbliche e privati. Perciò chiediamo al Presidente del Consiglio Conte e al Governo di attivarsi da subito perché per il Piemonte questo è di una straordinaria importanza. Secondo appello che faccio subito oggi è per quei 18 pescatori italiani che sono ancora prigionieri in Libia senza un'accusa precisa. Oggi i familiari hanno protestato davanti a Montecitorio, il Governo che così tanto si è dato da fare in questi giorni per i migranti dimostri almeno un po' di dignità per i cittadini italiani e riporti a casa i nostri ragazzi. È il momento della responsabilità, lo dimostra il Presidente del Consiglio e il Ministro degli Esteri e il Ministro degli Interni. Con riguardo poi alla legge che stiamo per approvare, la direttiva europea che dispone i termini della delega al Governo per il suo ricepimento, noi osserviamo come il testo sia stato integrato in parte anche con alcune proposte avanzate da noi Lega Salvini Premier. Certamente noi parliamo di una tematica importante, quella delle pratiche commerciali sleali che riguarda soprattutto il mondo agroalimentare ma non solo, che l'Italia ha già provveduto a disciplinare con l'articolo 62. Questo articolo che prevede una regolamentazione molto avanzata dei rapporti commerciali relativa alla fornitura di prodotti agricoli ed alimentari con punti di forza ulteriori rispetto alla stessa direttiva europea rimangono però in questo nostro articolo alcuni aspetti che la normativa nazionale ha bisogno di essere adeguata. Lo dico perché le pratiche europee sono difficili da inquadrarsi a livello di violazione dell'attuale legislazione in materia di concorrenza. Dato che gli strumenti messi a disposizione dalla normativa nazionale ed europea sono efficaci soltanto a contrastare alcune forme di comportamenti concorrenziali, con il ricepimento della direttiva 2019-633 si sarebbe potuto intervenire proprio su questo aspetto. Ma in realtà il testo, così come modificato in Commissione, rischia invece di inficiare quanto di positivo è stato fino ad oggi compiuto dal nostro Paese per riuscire a individuare la presenza all'interno di una filiera economica di un'eventuale pratica sleale. Affidare a due organi diversi, in pratica siamo qui con il punto chiave questo, come l'ICQRF e la GCM, significa rendere inefficace un intervento sanzionatorio nei confronti di eventuali trasgressori. Potrebbero infatti nascere una serie di contenziosi e ricorsi per mancanza di competenza all'autorità coinvolta che avrebbero l'effetto di ingessare l'attuale assetto normativo e di lasciare continuare la pratica sleale senza alcun tipo di provvedimento. Un aspetto che necessariamente deve essere migliorato è quello dell'efficienza della filiera agroalimentare. Bisogna rivedere alcune dinamiche. Guardate, l'autorità garante della concorrenza e del mercato aveva aperto, in virtù delle competenze attribuitagli, aveva aperto due indagini sul settore lattiero caseario riguardante la dinamica della formazione dei prezzi della filiera. La necessità dell'indagine riscedeva nel fatto che oggi più che mai le dinamiche che regolano la formazione dei prezzi sono poco trasparenti e le informazioni sono molto frammentate. Il latte ne è un esempio come la zootecnia, di cui ricade poi che nella suddivisione corretta di quelle che sono i margini ma anche i ricavi all'interno della filiera i più penalizzati sono i produttori primari, sono gli agricoltori, sono le nostre stalle dove il prezzo del latte oggi è di 35 centesimi a fronte di un costo per chi lavora, chi si alza il mattino alle 4 e fino alla sera è preoccupato e lavora in stalla, di 40 centesimi. C'è una perdita secca su questi prodotti ma non solo su questo, anche sulla zootecnia perché la zootecnia, la parte carne ha delle problematiche enorme, costi di produzione elevati a fronte di una filiera che poi non riporta indietro le necessarie e dovute spettanze a livello di redditività. Abbiamo noi davanti una grande opportunità che ci è data poi dalle risorse del Recovery Fund per dare competitività alla filiera agroalimentare italiana. Il Ministro nell'audizione che abbiamo avuto nell'ambito della nostra commissione sulle politiche agroalimentari ci ha parlato di un parco progetti pari a 17 miliardi di risorse economiche. Sappiamo che la filiera agroalimentare nel periodo dell'emergenza è stata straordinariamente importante, è riuscita a superare anche il lockdown delle altre imprese, attività, filiere collegate a lei, parliamo della parte automazione, di tutta la parte delle macchine, delle attrezzature necessarie. Ma questo ruolo strategico non si rivela poi nei fatti perché oggi si parla di poche risorse, di circa un miliardo di euro al settore agroalimentare rispetto ai 17 che sono necessari. Allora anche qui noi abbiamo bisogno di sapere quali sono le risorse certe, i tempi di applicazione e soprattutto chi sarà che dovrà determinare l'erogazione non può farlo il governo da solo, deve convolgere necessariamente le regioni perché il progetto è un progetto importante di rilancio di un settore straordinario del nostro Paese. vi ricordo che la PAC, le chiedo ancora un attimo Presidente, la PAC, la politica agricola comunitaria ha subito un taglio di circa 34 miliardi di euro e le ripercussioni sono già subito evidenti a livello nazionale per le quali è previsto un taglio di 370 milioni già nel 2021, il 4% in meno sui piani di sviluppo rurale e il 15% in meno sui pagamenti diretti agli agricoltori. Parliamo di un settore agroalimentare che vale 540 miliardi, 119 miliardi di valore aggiunto, 3,6 milioni di occupati, 2 milioni e 100 mila imprese, quasi 50 miliardi di euro di export. Perciò noi chiediamo al Governo, al Ministro, al Presidente del Consiglio di impegnarsi realmente nei confronti degli agricoltori, dei produttori, della filiera agroalimentare italiana, non solo a parole ma con i fatti, prima gli italiani sempre. Grazie, grazie.